La prima sessione affronta un tema che già stamattina è stato richiamato più volte, che è quella relativa alle misure e ai caratteri del consumo di suolo. Quindi una convergenza su cosa debba essere misurato, su come debba essere misurato, su come debba essere restituito anche nel dibattito pubblico il dato sul consumo di suolo, sulla trasformazione territoriale, sull'uso del suolo e quant'altro. Comincerei da Istat, Alessandra Ferrara, che ci ha accompagnato fin dall'inizio del percorso del centro di ricerca sul consumo di suolo. E a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo intervento che seguo, che avete già ascoltato dal dottor Cruciani, è invece più specifico calato sul contributo che noi quest'anno abbiamo dato all'assessura del rapporto del CRCS e riprende alcune delle tematiche che abbiamo affrontato recentemente in una pubblicazione che nel frattempo è uscita anche nostra, Istat, sull'urbanizzazione. Quindi è uscito un e-book, proprio molto recentemente, sulle tematiche relative alle aree urbane e quindi abbiamo fatto un'analisi specifica per il tema che ci interessa oggi, sulle forme e le dinamiche del consumo di suolo con specifico focus sulle principali aree urbane. Abbiamo utilizzato come fonte dati delle fonti Istat, in questo caso, e quindi abbiamo ripreso le basi territoriali dei scensimenti, abbiamo fatto un'analisi di, diciamo, medio periodo, un ventennio, 91-2011, e siamo riusciti a mettere insieme questa serie che, insomma, ha comportato una serie di necessità tecniche di allineamento e omogeneizzazione delle basi costruite già quelle nel 91, che effettivamente sembra poco tempo fa, ma in realtà, da un punto di vista dei sistemi informativi geografici, era proprio un'epoca preistorica, diciamo, visto lo sviluppo che ne è seguito. Un'altra fonte che abbiamo utilizzato per questi contributi, specificatamente come dati invece raccolti da indagini di Rettad, è il scensimento degli edifici, che ha, almeno fino al 2011, aveva la caratteristica di raccogliere le informazioni sugli edifici costruiti per epoca di costruzione, oltre a una serie di informazioni, diciamo, descrittive della qualità del patrimonio edilizio. E quindi, grazie a questa fonte, anche, si può fare un'analisi, questa volta di periodo lungo, quindi, a partire da edifici già preesistenti al 1919, poi successivamente, a intervalli circa decennali, insomma, prima o dopo guerra, gli intervalli erano un po' più discontinui, poi dopo decennali sui censimenti, successivamente. E abbiamo utilizzato, come base geografica di analisi dei dati, quella dei Sistemi Locali del Lavoro 2011, Sistemi Locali 2011. E molti di voi sapranno già di che si tratta, comunque, insomma, sono una mappa funzionale che ripartisce il territorio in oltre 600 aree, nel 2011, e sostanzialmente descrivono delle forti relazioni che collegano i luoghi di residenza e di lavoro della popolazione. Quindi sono sostanzialmente determinate dall'analisi dei flussi pendolari per motivi di lavoro, prevalentemente espostamenti quotidiani dal luogo di residenza. Come diceva, appunto, il focus è sui 21 principali sistemi urbani che sono stati considerati in modo distinto rispetto a quelli delle città medie, che sono altri 86, e agli altri residuo, la maggior parte, 504, che si riferiscono invece a piccoli centri urbani oppure hanno caratteristiche totalmente rurali. Partendo quindi dall'analisi dei dati sui dati del censimento degli edifici, quindi di lungo periodo, diciamo circa un secolo di orizzonte temporale, le caratteristiche salienti che emergono da questa analisi sono che ovviamente il patrimonio degli edifici residenziali, in questo caso parliamo dell'edificato residenziale, è cresciuto enormemente nel nostro territorio. prima del 1919 si contavano circa 2 milioni di edifici e nel 2011 siamo saliti a 12 milioni, quindi c'è stata letteralmente un'esplosione della produzione edilizia. In realtà è ancora più concentrata questa esplosione perché la forte dinamica accelerata si è avuta a partire dagli anni 60, all'inizio degli anni 60 in poi, quindi sostanzialmente in circa 50 anni lo stock che si rileva a fine periodo è di 10 volte superiore rispetto a quello iniziale, quindi sono numeri abbastanza emblematici di quanto il territorio si è stato effettivamente esposto a questa pressione di nuovo edificato solo residenziale. La densità media dell'edificato cresce proporzionalmente anche essa e diciamo che nelle principali aree urbane si passa da circa 10 edifici per chilometro quadrato a 90, quando nel territorio mediamente a livello nazionale la variazione è più o meno da 6 a 40 come rapporto, quindi ovviamente le principali aree urbane sono fra tutte quelle dove questo fenomeno è particolarmente evidente. Questo è l'output di quello che consente la visualizzazione dei dati georiferiti per sezioni di censimento delle basi territoriali appunto. Si osserva bene, questi sono i sistemi locali di Milano, Napoli e Roma, come fino agli anni 60 sostanzialmente l'edificato cresce più o meno in forma concentrica al netto delle caratteristiche morfologiche dei luovi come Napoli, che ovviamente è una città costiera, ma comunque si mantiene rispetto a fasce che via via si espandono rispetto al centro storico originario. Dopodiché la situazione esplode e vengono massivamente coinvolti tutti i comuni dell'Interland che letteralmente subiscono una effettiva invasione della nuova produzione edilizia. Come dicevamo appunto, in realtà l'incremento reale è concentrato in 20-30 anni, in questi anni, dal 60 all'80 la crescita annua è del circa 0,7% per tutti gli anni dei decenni considerati. Poi si ha una prima flessione fra gli anni 80 e 90 in cui il ritmo di crescita scende al più 5%, comunque sempre una crescita consistente e successivamente invece la dinamica pur sempre positiva è ancora più in flessione, come rallenta l'incremento fino a uno 0,3 annuo. La dimensione media dell'edificato anche, si osserva molto bene da questi dati, descrive una diversa, chiaramente, tipologia di produzione edilizia, costantemente cresce la superficie dei corpi edificati come impronta al suolo, anche se proprio nei centri delle principali aree urbane, a partire dagli anni 70, vedono la ricrescita di edificato che occupa meno dimensione al suolo. Quindi di nuovo cambia il modello di edilizia prevalente e dal grosso fabbricato a più piani si muove verso un'edilizia tipica del modello SPRO, quindi della villetta, della palazzina e quindi chiaramente un modello a maggiore consumo, meno efficiente dal punto di vista ovviamente dello spazio occupato per persona residente. Questa è per i 21 sistemi locali e per alcuni aggregati. La distribuzione, come vedete, non si deliminano dei profili equivalenti che consentono di dire che nelle grandi aree urbane si è avuto un comportamento omogeneo. Temporalmente, sia da un punto di vista di distribuzione territoriale per macro ripartizione geografica, sia per caratteristiche specifiche dei diversi contesti urbani, queste fasi di crescita hanno avuto degli andamenti differenziati nel tempo, sembrano un po' a canne d'organo, come vedete. Una cosa che emerge in modo esplicito dall'analisi complessiva è che, considerando l'accumulata dell'impronta al suolo di questi edifici stimata, l'occupazione complessiva è di circa 1360 km2, che è una cifra di occupazione al suolo molto piccola. Questo ci dà un'idea immediata del fatto che quello che noi finora abbiamo descritto stamattina con le varie definizioni di consumo o soil sealing o quello che riteniamo più utile con la definizione che speriamo riusciremo a trovare condivisa da qui in un breve tempo, è che l'apporto della componente dell'edificato residenziale è piccola, come impronta al suolo sigillato. Molto di quello che noi rileviamo come consumo è certamente da attribuirsi alla produzione del produttivo, quindi capannoni commerciale e infrastrutturale. È una conferma che viene anche da questi dati, non è una novità, insomma l'abbiamo visto anche in più analisi di prodotte dal Cresme, anche nel rapporto ISPRA dell'anno scorso, questa cosa emergeva molto bene, ma dall'analisi di lungo periodo di questo fonte si emerge esplicitamente questa conferma. come dicevo, soprattutto nelle aree delle principali città e comunque contesti urbani dell'Interland, questa riaffermazione di un'edilizia più spacchettata, più dispersa, con occupazione del singolo fabbricato ridotta, ma più consistente come numerosità degli edifici con la crescita della densità, è chiaramente un modello più aggressivo e certamente meno rispettoso della risorsa suolo in sé. Lo vedete anche nei numeri, ci sono confrontati le principali realtà urbane, quelle di prima corona, seconda corona e il resto delle partizioni territoriali dei sistemi locali del lavoro. Passando all'altra fonte, quindi specificatamente quella che deriva dalla mappatura cartografica delle basi territoriali e quindi una mappa tematica che sostanzialmente consente di riprodurre il territorio nazionale per sommatorie di circa 400.000 poligoni che sono molto fitti nelle aree urbane circa coincidono con gli isolati e chiaramente sono invece superfici più ampie nelle aree extraurbane che per definizione delle basi territoriali dovrebbero diciamo circoscrivere quei territori dove l'edificato è molto più raro e la densità abitativa più contenuta. Insomma nella mappatura di sinistra alla vostra sinistra vedete la rappresentazione delle località abitate e in quella di destra la classificazione dei sistemi locali per livelli del consumo denso e disperso quindi le superfici occupate dai centri nuclei abitati e località produttive che per definizione sono aree in cui i fabbricati non hanno una soluzione di continuità elevata quindi sono molto prossimi l'uno all'altro e dove invece l'edificato se è presente è particolarmente disperso sul territorio e la mappatura è abbastanza emblematica di quanta parte del territorio in realtà risulta affetto o da entrambe livelli elevati di entrambi gli indicatori o quantomeno da uno dei due e quindi diciamo che sostanzialmente quello che dicevamo stamattina se consideriamo che la maggior parte delle aree più chiare che sono quelle a basso consumo così classificate sono prevalentemente aree interne montane o alpine ci rendiamo conto che quasi tutto il resto che poteva essere impattato è stato violentemente impattato vado più veloce questa è una rappresentazione appunto dei due indicatori che abbiamo considerato per le principali aree urbane come vedete ci sono dei casi che sono veramente estremi il caso di Napoli che mostra elevatissimi livelli sia di superficie dell'edificio consolidato sia di densità extraurbana che è l'indicatore che abbiamo preso come proxy della superficie occupata di edifici in aree esterne ai centri nucleabitati Padova e Venezia rispettivamente nel nord est invece hanno meno superficie occupata dalle località dense e elevatissimi valori di densità di popolazione extraurbana quindi il modello SPRO è particolarmente leggibile diciamo da questa rappresentazione dei dati le località di centro nucleo abitato sono costantemente cresciute nell'intervallo che possiamo osservare quindi dal 91 al 2011 e passano quindi come vedete da una superficie complessiva del 6,2 al 6,7 di incidenza rispetto al territorio dei media dei sistemi locali delle grandi aree urbane con una crescita che però è molto più consistente nel primo intervallo 91-2001 oltre il 30% e invece molto più piatta nel secondo intervallo meno dell'8 tra il 2001 e il 2011 mentre invece la popolazione che vive in aree extraurbane quindi in corpi che sono distanti tra loro sufficientemente da non essere inclusi in aree considerate densamente edificate segue un andamento inverso quindi è costantemente in incremento in particolare abbiamo considerato per queste aree all'esterno dei centri abitati ho visto che nel rapporto del CRCS c'è un contributo che tratta specificatamente questa dimensione abbiamo suddiviso l'extraurbano in aree dove comunque la popolazione ha una densità abitativa di almeno 20 abitanti per chilometro quadrato quindi rado ma non disabitato dal resto del territorio e osservare il comportamento di questa sostanziale fascia intermedia è particolarmente interessante perché questa è come una fascia di risonanza che rispettivamente assorbe la città che avanza e si densifica e si estende ulteriormente fuori verso l'extraurbano fra virgolette puro possiamo definire e anche questo ci fa vedere come i comportamenti delle diverse aree urbane siano particolarmente differenziati questa è la situazione media a livello Italia e per i 21 sistemi urbani come vedete a livello Italia sostanzialmente le aree dense che sono quelle in blu passano dal 4 8 al 6 7 in 20 anni mentre invece quelle in rosso che sono quelle di questa cassa di risonanza sono sostanzialmente stabili se invece osserviamo i sistemi delle principali aree urbane vedete che questa quota nell'ultimo intervallo sale al 25% del territorio quindi un quarto del territorio occupato da questo edificato che non possiamo ancora considerare denso ma che certamente non descrive territori non abitati questo comportamento di crescita di entrambe le componenti sia del denso che di questa fascia mista caratterizza la maggior parte dei sistemi delle principali aree urbane e in alcuni casi 8 su 21 moltissimi questi che vedete tra l'altro sono veramente rilevanti in realtà urbane mantiene lo stesso andamento anche nel secondo decennio quello dove la crescita in realtà abbiamo visto essere più piatta in alcuni casi invece il profilo si inverte quindi all'inizio si ha nel primo decennio si osserva una prevalente densificazione e poi un'esplosione dello spro nel secondo decennio questo è il caso di Como Verona e Genova in particolare a Bustarzizio Bergamo Bologna Napoli e Reggio di Calabria non c'è una sostanziale stabilità nel tempo con uno shift verso l'esterno di questa area rossa di prevalente densificazione ma c'è una crescita consistente quindi oltre alle aree densamente edificate e di edificato densa e consolidato anche questa componente ha un andamento fortemente crescente nel tempo e questi sono i due casi che dicevamo prima invece di Venezia e Padova si osserva molto bene come in questi casi la fascia rossa è predominante quindi qui sostanzialmente il territorio residuale nel caso di Padova è emblematico siamo intorno a un 7,4% di territorio che possiamo considerare non affetto da forme di edificato denso o di edificato in fase di forte densificazione insomma di uno uno spro fortemente una forte pressione da sprovo diciamo un'altra cosa interessante che emerge dall'analisi di questi dati è come cambiano i comportamenti territoriali della numerosità e la dimensione media dei centri abitati il modello prevalente all'inizio del periodo osservato è al nord insomma a spanne ecco diciamo come modello prevalente più località abitate numerose e più piccole nel mezzogiorno meno località abitate tendenzialmente più compatte e grosse si osserva una convergenza verso un modello di massimo consumo quindi anche il mezzogiorno si sta muovendo verso la proliferazione di semi e nuovi siti insediativi dove prima era esclusivamente campagna e territorio non considerato urbanizzato questo si osserva bene qui la dicotomia netta che esiste fra il centro nord e il mezzogiorno ma la dinamica ci dice che i due comportamenti vanno verso una convergenza purtroppo verso il modello di più elevata pressione territoriale l'ultima cosa interessante è la frammentazione dei margini urbani cresce ovunque in particolare a Padova Torino e Bologna e Roma e come vedete non sempre cresce anche in forma correlata rispetto alla variazione effettiva della superficie complessiva delle aree dense quindi la frammentazione dei margini sembra seguire un modello che è del tutto svincolato dall'incremento della produzione della superficie edificata densa un'altra cosa interessante che emerge è un cavallo di battaglia spesso diciamo trattato nei rapporti del CRCS è l'incremento delle località che si sviluppano a cavallo dei confini amministrativi noi sappiamo che la pianificazione urbanistica è superlocale comunale quindi ciascun comune regna sul proprio territorio ma comportamento di un comune influenza decisamente il comune e i comuni limitrofi quindi sia in modo devastante perché possono avere dato destinazioni d'uso totalmente incongruenti e non compatibili sia per proliferazione di nuovo consumo ai margini che si diffonde nei comuni di confine quindi questo è una semplice riepilogo delle cose che abbiamo detto sulla parte dell'edificato residenziale abbiamo detto la cosa forse più eclatante è proprio questa delle aree intercomunali quindi certamente il proliferare di questo tipo di nuove località abitate segnala la necessità di un livello amministrativo superiore per il governo del fenomeno questi lavori sono stati sviluppati in collaborazione con questi colleghi che leggete e il volume che citavo all'inizio è scaricabile a questo sito è un pdf quindi fruibile vi ringrazio grazie ad Alessandra Ferrara accogliamo questa sollecitazione nell'Italia delle post province finché è un po'